ragazzi adesso eseguiamo un'esercitazione che si chiama ti lascio alle spalle primo punto di riferimento sono io lavoro anch'io quindi a seconda di come ho io la palla voi salite accorciate bene se una palla coperta se mi dirigo a seconda dei dei miei movimenti voi finite in avanzamento o arretrate ok in qualsiasi momento io metto palla sulla difesa voi già in quel momento sarete contrastati da due attaccanti ok respingete palla da quel momento entrano in gioco anche i quattro centrocampisti di fatto lavoriamo su un sei contro quattro prima verifichiamo i movimenti di avanzamento ed elastico in modo didattico con il mister dopodiché io butto palla lancio la palla e la didattica diventa pratica quindi andiamo a fare un sei contro quattro e voi mettete in pratica nel sei contro quattro tutti i lavori che conoscete coperta scoperta posture orientamento tutto ciò che abbiamo visto fino adesso ci siamo a posto i portieri ok andiamo siamo palla vieni attacca la profondità ok gioco meglio meglio con la palla ricolo ribattiamola bene non li mettiamo via via ok luca partecipa sei contro quattro vediamoli palla michele recupera la porta antonino giovanni vieni dentro in diagonale ci siamo abbassati troppo ok palla 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 non ci fermiamo palla 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 nicolò giovanni recupera sto lanciando vieni non sento dico portali su copri strinci lu e gioco di sempre alti non li abbassate ok ad imbuto la a vieni uno vieni vieni vivo bravo giovanni vieni vieni doctor vieni 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 bene v allà vieni eccola eccola vieni, era distante, bravo, bravo dentro veloce, non abbassarti più bravo tienite incontro a me, come ho detto prima, bravo lì come ho detto prima, grazia, come ho detto prima, fammi vedere non scappare, non scappare lì se non è pronta ad attaccarti la profondità, non scappare vieni vieni, vieni a chiuderlo attacca, 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 attacca Giovanni portiamo Savalli in meta, portiamo Savalli in meta Giovanni ancora allora, ancora allora non scappare fino vieni uno importante, dammi questo pallone, a go in un attimo palla che viene da quella parte, guarda perché abbiamo la linea? perché c'è la linea, Nico? Pascuccio, perché? perché dobbiamo attaccare? perché sono pericolosi? possono dire, è inutile indietreggiare qua, mi metto una filtrante mette una filtrante ho la porta quindi qua dobbiamo essere aggressivi qua abbiamo concesso un tiro possono fare gol dovete stare su, non dovete avere paura quasi non si rincula più sotto non si rincula aggredisco e gli altri vi coprono l'ultima fatta bene l'ultima fatta bene porta Luca su Leo palla palla Antoni fermo è venuto in contro non devi scappare bravo Antoni ma chi ti attacca? chi ti attacca? non niente attaccate alla profondità adesso si che scappo no vengo 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 vai Graziani vai 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 attaccalo là vai uno facciamo meta facciamo meta mettiamo una transizione andiamo 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 Paolo errore vetti di largo ancora Paolo non strincere apri il campo palla a me ok non inserirti stacchiamo abbiamo recuperato campo ampio ampiezza l'ultima si 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 può anche tirare se si abbassano troppo anzi andiamo Buonaco ci sei? alto bene su Valerio dai disco andiamo orientato ciò va non vi abbassate troppo bravo